salve a tutti amici artisti e bentornati per la seconda volta in questa ottava puntata di minecraft ita. ora ci vuole aspettare che qualcuno bussa e non fa la terza volta l'intro dell'ottava puntata in pratica abbiamo già portato avanti il lavoro come si può vedere ma perché lo stavamo già facendo quando poi ci siamo accorti che stiamo registrando con la voce tipo gig robot praticamente tipo robocop ecco in pratica in questa puntata abbiamo deciso di costruire una stanza ah sì perché poi l'abbiamo detto prima quindi adesso dobbiamo ripetere anche quello per lo smistamento delle ceste e quindi non c'era questo tunnel l'abbiamo fatto prima e se non si è mai visto non si è visto un cazzo e stavamo continuando a costruire perché una volta che siamo arrivati qua pensavamo che non ci fosse niente di trovare un bar un vuoto per poi fare un ponte ma in realtà ci sta ancora e quindi mo stiamo facendo tutto a mano e quindi c'è continuiamo poi andiamo a scavare e speriamo di non avere nessun altro inconveniente riparliamo di quella cosa che stavamo dicendo prima dicevamo che praticamente si facebook ti ho fatto vedere io che cosa oggi quando sei tornato un video assurdo c'è praticamente c'è una ragazza che per farsi un selfie per spararsi un selfie si è affacciata al ma forse il ventissimo piano di un palazzo la palla si è meglio non qua con l'aio sulla ghiara sulla ghiara questa cosa ok e cosa stai dicendo che praticamente deve spararsi questo selfie si è esportato un po' qua gli uno ha fatto un volo di venti piani venti piani di morbidizia cazzo si è spappolata al suolo infatti poi hanno messo pure le foto questa e dicevamo allora c'è diversamente nei film comici quando o almeno anche quelli la tipo oh ci ridiamo e scherziamo però capisci che è spavento cadere da quell'altezza per farti un cazzo di selfie poi in pratica c'è diversamente quelle sagome di cui cizzi tutti spavolati ecco così stanta ma deve essere una cosa agghiacciante una tragedia vabbè che non vai a farti un selfie così e ti sporgi in quel modo ci pensi che c'è stato un video e quel telefono è rimasto vivo no ma se tu hai fatto casaccio una foto di quella che sta proprio in bordo e che sembra che sta continuando a far sparsi il selfie non lo so che stia andando giù sembra in posizione ancora selfie poi ci pensi magari c'è anche la bocca di gallina ci pensi sto morendo mi sparo un selfie e poi un'altra cosa che avevamo detto prima sempre per viva il legit noi fraps l'abbiamo l'abbiamo craccato shhh perchè adesso adesso non stiamo mettendo i video cioè le clip ogni 30 secondi adesso tipo durano noi quale vale dobbiamo controllare in continuazione quasi un'ora e quindi noi non l'abbiamo craccato noi non abbiamo i soldi noi abbiamo tutto abbiamo anche smeralda tutto si si sti cazzi e quindi eravamo anche poi al discorso della puntata di natale ah e si stavano dicendo che pratichiamo questa puntata qua esce capiterà a novembre l'ultima settimana se tutto va bene se tutto va bene e quindi niente maria vi ha detto poi prima suggeriteci nei commenti qualcosa non lo sapevo quando uscirà questo video non c'è la puntata di natale stiamo dicendo già la stanno facendo già l'hanno fatto pure vabbè ci organizziamo cosa tipo di guazzini valbero mega gigante esagerato poi stasera di walking dead però per loro no ero per noi novembre guarda che novembre lo starà ancora facendo no l'ultima puntata però perché poi dicembre finisce e poi inizierà master chef no no meglio di walking dead vabbè ma non è colpa con la speranza che gli zombie si mangino proprio quelli di master chef sarebbe bello vedere lo zombie così lo accoppo già bastiene che fada mangiare che viene mangiato dagli zombie giù se stai guardando questo video ti adoriamo faccio pubblicità io non ti seguo faccio pubblicità per favore abbiamo bisogno di ah se mi fai pubblicità si ti seguo anche su sky giuro sempre pubblicità giuro che ti seguo sempre dopo walking dead però walking dead numero uno poi aspetta che serie ci sta dopo walking dead che fa tipo verso natale nessuna no master babbo natale bastardo su sky babbo bastardo all'inizio di nove cioè a fine novembre inizio di cio fa una serie che fa tipo una due puntate a settimana di che parla? no in pratica ci stanno questi qua che nella vita reale tipo beh c'è sta spoiler babbo natale non esiste no 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 mi hai rovinato la vita di tutti i bambini allora se tra i miei follower ci sono bambini adesso li perderò ciao e abbiamo rovinato l'esistenza ah beh quindi sanno questi tizi che non c'entrano un cazzo con babbo natale però vogliono fare tutti i tipi che sanno fare e quindi tipo si sfidano e poi chi vince il babbo natale ah forse l'ho visto qualche volta abbiamo visto a natale anche sì sì vogliono essere babbo natale praticamente però questo non è ancora la babbo natale no ci ponevamo il natale e poi babbo natale non esiste stiamo un po' che accelerate e poi mancano giusto un mese due mesi e poche settimane che volerà iphone xs max eh raga mi sono rovinato ultimamente ho preso l'iphone xs max andate a vedere l'unboxing sì sì perché già sarà uscita l'unboxing eh da anche 5 anni già da un pezzo ma aspetta ma anche se questo riguarda un cazzo con i video ma stasera che cazzo ci mangiamo? ah 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 stiamo sforando parecchio voglio capire le serie ma che cazzo mangiamo? ah 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 che cazzo ci perché per quello che ho capito noi dobbiamo stiamo solo noi mostrando no 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 non è così no 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 per fortuna mangieremo bene no perché se no dobbiamo arrangiarci di pace no no qualcosa di sicco no no di massicco no mangieremo decentemente anche stasera no mangieremo dodo no no mangieremo decentemente per le stasera ma questa montagna non glisce mai dove cazzo si va? ma aspetta stacca devi devi sparcare pure questo ma chi l'ha di leva roppi? mi lascia le spalle ah beh aspetta ci siamo quasi qua si eh mi lascia le spalle ma guarda che buco guarda che cazzo abbiamo fatto ma un tunnel enorme che peccato che poi si è perso il lavoro cioè ne ho perso che non l'abbiamo potuto farvi dire perché prima parlavo con i robot quindi perché più o meno abbiamo fatto capire come un è che enorme una cosa allucinante e poi tipo faceva tipo solo e quindi moriva cagava il cazzo comunque tipo ci avete presente non so se avete visto Venom spoiler lui soffre di cose di rumori alti potenzialmente alti ma sono le caratteristiche proprio del simbiote di Venom perché pure nell'altro spazio non ti ricordi che quando batte quelle canne di ferro lui vibra spoiler uscirò nella recensione su Venom forse è già uscita però va bene sparatevela veditela sei uscita sei uscita se no no aspettate che esce potete ma no vantatele a cagare vantatele ci vanno a cagare loro l'importante è che guardano questo video guardatevi apprezzatelo seguitemi per favore che c'erano i soldi che dobbiamo comprare altri di tele anzi i follower vanno anche ringraziati facciamo le questioni bene anche ringraziati che se non ci fossero loro il canale la voglio aiutare che cazzo per Natale vogliamo 2.000 iscritti però manca poco 1.000 altri un altro migliaio meno a 1.600 c'è ragione di meno di meno è vero errore di meno per fortuna di meno cioè non ti ricordi siamo a 1.600 ma sono così tanti che la classe non è ancora si sciacqua andiamo a guardare di qua vuoi allargare eh no qua ci fermiamo che passa la pietra è che poi quando noi dovremmo costruire questo ambaradano per mettere le ceste no no qua do 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 perché parlavo come su azzaro un certo punto è che ti d'influenza l'avranno conosciuto sicuramente nella challenge l'avranno schifato questo poco di buro poi rosa la bacio non faccio come che aspetta ma mi faccio vedere più o meno cosa è successo questa questo qua stavo riprendendo no c'è questa che esce aspetta non voglio morire aspetta ok si c'era questa in pratica che si siede sulla ringhiera fa che bello io spararmi un selfie buono mamma veramente esagerata si 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 ammazza atrocemente ma mi aspettavo che fosse allora pensavo che questa cadesse perché sembrava tipo una donna delle pulzie che le prese con le pulzie del balcone all'esterno laggiù poi dopo perché era spagnolo poi sono da tradurre e ho visto che c'era scritto selfie quindi fuck 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 non mi hanno visto sto cazzo no fu 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 ok il pecora è di togli di pecora ecco qua ok dopo aver simulato la cadesa di cui la torniamo a noi ok vai si devi riscare solo questo gioco ok guarda che bello non mettere pause non mettere e non guardare il tempo che passa perché non già va allora io lo guardo comunque perché comunque ho preso l'abitudine è vero? accetto perché purtroppo da quelle che anche perché la prima puntata forse non ve l'abbiamo mai detto ma in pratica aveva iniziato a registrare però senza poi registrare niente vabbè perché la prima ancora registrata e poi abbiamo toglietto da mezzo no no guarda vabbè ora mai scaviamo fino a qua e dovevi fermarti qua c'era un glock vabbè si oppure era un trucco oh cazzo nermi non stiamo imparando a parlare tanto e questo ci si sa eh sì però i soldi non ci ci sono no non ci sono lo stesso non ci sono dai fateci questo regolo per Natale dateci i soldi così un migliaio d'euro almeno partiamo da mille io devo comprarmi un iPhone X io ho una Playstation 4 quindi no allora 2000 euro fate voi io i nostri babbo Natale ecco che spoiler non esiste allora lasciamo stare se era rimasto qualche bambino residuo no no questo ci lasciamo qualche bambino dei fan no io penso che dopo i video di Sasan non esistono più bambini già zerati praticamente cioè se è rimasto qualcuno ha dovuto uire le palle per vederti gli altri video dopo Zazan tabula rasa penso che quello è diventato un video allucinonce sì magari anche bloccato e poi io io manderei una come si chiama come si chiama una una petizione per denunciare Salvatore perché ha parlato male di queste povere troie no queste povere ragazze che non andavano insultare anche perché sono belle ragazze si può vedere nel video scherzavamo però effettivamente belle ragazze che non non ci entrano un cazzo no era per giocare non meritavano quelle parole dai va bene così quindi scusatevi a tutte le femministe che pensano a tutte le donne no non è giusto se si scherzava ma non era l'idea quella di offenderle assolutamente e con questo ci fu una grande morale la morale del video di insultare le donne no no non era questa la nostra intensità ma ci siamo che dobbiamo costruire io penso che questo video sarà il primo video su youtube Italia che dura tanto di quel tempo dura 5 ore di pellicola e poi ironia della sorte esce di un video di 40 minuti tagliato 5 secondi 5 secondi 5 secondi si si come fai fai a tagliare 3 secondi ok allora vogliamo dove allestiremo dove costruiremo diciamo che anche penso che si è staccata la legislazione no diciamo che qua un giorno prima o poi in un futaro in un futaro lontano che cosa faremo qua? abbattiamo tutto questo qua sotto per fare il famoso punto di cui parliamo prima e che non non faremo mai probabilmente per uscire ah beh non si può mai sapere visto che prevediamo 2 milioni di puntate il problema è che non abbiamo ancora finito neanche il sottotetto quello ci poi ci sarà tempo e anche per questo c'è sempre tempo ma si ci verranno tanti di quei video si provalo come li hai scritti ma va bene non è che sono poco quasi 2 mila iscritti possono crescere per alcuni potrebbe essere poco però comunque c'è c'è una soddisfazione 2 mila persone che ti guardano non è male si si già come c'è una cosa buona i soldi no però ancora non ci stanno siamo ancora è sperata non c'è lasciamo perdere che ti rimane un cazzo un sasa selvatico una cosa peggiore c'è rimasta eh sì vabbè quindi pratichiamo sì a bel caso mai dopo sto imparando pure questo minecraftiano mi soffrendo te la formale guarda che scientifico più che moneycraft attenzione però io sapevo che ne è imparato tu magari con minecraft ma è scientifico è un gioco educa 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 non ho mai detto che non è educativa infatti mi piace lo faccio mi piace che è vero e sicuro che quando si andiamo sì perché poi tipo qua facciamo ogni tot spazio una stanza nuova e qui tipo qua facciamo lo smistamento delle ceste poi tipo vabbè off camera fuori labelliamo però eh sì facciamo una cosa più calccia renditi conto di quanto vuoi essere grande quando vogliamo farlo grande pure di larghe ma sta laggando un po' eh minecraft fai bravo non rompe le palle eh stai dicendo allargalo pure capito perché non deve essere un tunnelone perché poi non c'entra niente è ovvio una stanza decente fatta bene poi poi abbelliremo anche poi anche un bunker bell'idea così ci mettiamo nero saldamus sasausen però dovremmo fare la come si chiama la skin di zazza eh ma il problema è che se non mettiamo la skin nostra è come facciamo no ma io penso che poi non è questo è che si rifiuterà minecraft della skin di zazza ti vuolo vomita ci crash si banna minecraft che minecraft tra l'altro è crackato tutto a posto siamo tutti regolati a parte mariano gli altri sa sa ma sa sa le cose è minecraft infatti ancora un po' sì vediamo un po' qui qui e qui comunque l'iphone di mario penso l'avete visto guarda è bellissimo allora mario in realtà lo voleva oro però pure la colorazione space grey non è male bellissimo poi mi ha messo la cover nera la cover nera e qualcuno ti sta chiamando eccoci qua ragazzi allora ok abbiamo fatto più o meno la struttura abbiamo scavato quando era necessario adesso al nostro schiocco di dita vedete la struttura di mezza completa ok allora pavimento pareti e soffitto allestito quindi ora cesta ok adesso cesta inserite adesso ve lo faremo dire completo eccoci qua come potete vedere tutto completo non è che vi abbiamo fatto vedere perché il video è abbastanza lungo e quindi alcune ceste quelle già viene di materiale alcune ceste quindi e va bene spero che questa ottava puntata vi sia piaciuta lasciate la commentate condividete al prossimo video grazie a tutti grazie a tutti